E' stata messa in dubbio l'autenticità delle due opere attribuite al pittore Amedeo Modigliani esposti in una mostra a Palazzo Bonocore a Palermo, che ha chiuso il 31 marzo scorso. I dipinti sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale su Deleghe della Procura. Secondo quanto ricostruito, le opere sono due dipinti a olio su tela. Hannelore, proveniente da un'eredità giacente del Tribunale Civile di La Spezia, è donna con cappello di una famiglia di Reggio Emilia. L'autenticità delle opere era stata messa in dubbio da Carlo Pepi, collezionista d'arte toscano e studioso indipendente del grande artista livornese. I carabinieri a Roma e Spoleto hanno eseguito due degreti di perquisizione a carico del presidente dell'Istituto Amedeo Modigliani di Spoleto e del curatore della mostra, entrambi indagati per il reato di contraffazione di opere d'arte. Nel corso delle operazioni è stata sequestrata anche la documentazione cartacea sull'organizzazione della mostra e sulla provenienza delle opere e sono stati sequestrati in materiale informatico e 27 beni d'arte di pregio verosimilmente contraffatti nell'autovettura e nella disponibilità di uno degli indagati.